Sindaco, questo settore aspetta una rinascita e Cortona Antiquaria, arrivata insomma alla 59esima edizione, è sicuramente un punto fermo nel mondo dell'antiquariato. Certamente sì, 59 anni sono lunghi ma stanno a testimoniare l'importanza di una mostra, la mostra del Mobili Antico a Cortona, che nel tempo ha cercato di preservare quello che è anche un patrimonio artistico e culturale, non solo evidentemente del territorio comunale di Cortona. È molto importante e avere ancora una volta riorganizzato la stessa presso il complesso di Sant'Agostino sta a significare un'attenzione verso il patrimonio artistico e culturale di Cortona. Cortona è piena di turisti, siamo molto soddisfatti, vuol dire che tutti insieme abbiamo lavorato bene anche durante la pandemia. Gli antiquari arrivano da tutte le parti d'Italia, abbiamo antiquari che vengono dal nord, da Bergamo, da Milano, da Firenze, abbiamo degli stranieri che vengono dalla Svezia, da San Marino, abbiamo uno stand di antiquari spagnoli. E gli antiquari hanno risposto bene perché complice un po'. In questo da una parte ci ha aiutato un po' la pandemia perché rimanendo sempre un pochino bloccati, chiusi nelle loro gallerie, appena c'è l'occasione di poter uscire fuori e cercare di cominciare ad avere una vita normale di lavoro, chiaramente tutti sono sempre pronti, disponibili. È un pochino più complicato, però ci si riesce. La location è molto bella, ovviamente gli antiquari hanno ognuno più o meno il loro spazio, è comunque affascinante come luogo che la ospita. Certo, la location gioco forza, l'anno scorso siamo stati costretti a cambiarla perché la vecchia sede era una sede scolastica, quindi non c'erano i tempi per la sanificazione, quindi tutta una serie di cose. Abbiamo trovato questa sede, l'ex convento di Sant'Agostino, dove un po' più in piccolo perché non riusciamo, qui siamo 23 antiquari, nel Palazzo Vagnotti eravamo una trentina, 32, ecco purtroppo gli spazi. Quest'anno siamo riusciti, col senno di poi, dopo un anno di esperienza già qui, abbiamo ricavato altri quattro stand in posti vari e quindi siamo comunque un pochino più avanti come lavoro, però va bene.